Il Pokémon World Tournament è fascista, fascismo nei giochi Pokémon, titolo clickbait, raga già 7000 iscritti. Saluti ragazzi e benvenuti in questo dodicesimo episodio della Crazy Lock a Pokémon Nero 2. Signori miei, nello scorso episodio abbiamo sconfitto il cavo palestra Rafan H. Marcello, Marcellus, non mi ricordo già più come si chiamava, e oggi dobbiamo andare ad affrontare il Pokémon World Tournament. Signori miei, il team non è cambiato ovviamente, siamo rimasti praticamente invariati, e nulla, siccome sono masochista, siccome sono masochista e voglio farmi del male fisico, dato che mi sembra troppo facile la challenge che stiamo affrontando, nel senso ci va troppo di culo, signori miei, quest'oggi il nostro caro Pokémon World Tournament conterà come battaglie normali, di conseguenza se ci schietteranno Pokémon al Pokémon World Tournament verranno contati come morti. È una cosa che di norma non farei, ma dato che sono poche morti, devo vedere altri morti perché sono sadico con i miei Pokémon, e poi ovviamente sprecare tempo per allenarne altri e magari perdere la Nuzlocke, ma questi sono dettagli. Ok, eccoci qua, stiamo andando al Pokémon World Tournament. Eccolo qua, PVT Estate. Allora, di qua si va, se non ricordo male, all'Antico Sentiero, nel quale però abbiamo già fatto, se non ricordo male, la cattura, e che esploreremo in un secondo momento. Queste zone qua non ricordo la loro utilità, però sono stato catturato dalla rete magnetica classica dei personaggini. Siamo arrivati! Eccolo qua, raga, che figo. Che ve ne pare, una costruzione davvero imponente. È il luogo in cui si svolge il Pokémon World Tournament, grandioso, eh? Forza, seguitemi! Ok, perfetto, il Pokémon World Tournament, ragazzi, è stata una delle innovazioni migliori dei giochi Pokémon, perché ha introdotto, diciamo, la possibilità di affrontare i personaggi storici, che vi palestra di Kanto, di Yoto, di Owen, Rosso, Gary, Lens, insomma, tutti quanti saranno affrontabili in questa struttura, è la cosa davvero davvero bella. Questa volta, questa volta avrete l'onore di partecipare al torneo di Libeciopoli. Le regole sono quasi inesistenti, potete fare quello che volete. È un torneo eliminazione, ok, perfetto, torneo eliminazione tattico. Tu che centri? Centri a come? È il compito tuo far capire a tutti il significato delle lotte di Pokémon. Soprattutto ora che guarda l'allenatore di tua conoscenza, non è più nei paraggi e ovviamente si riferisce al personaggio di Pokémon Nero, che giustamente scompare, io ricordo, l'avrò già detto forse poco, quando giocavo a Nero 2, speravo costantemente, intanto il cane giuffa a casino, speravo costantemente appunto che si potesse riaffrontare il vecchio personaggio, purtroppo non è mai stato così. Voglio partecipare e non penso di avere molta scelta. Allora, ok, fermi, iscriviamo certi Pokémon. Allora, io porterei Nutri di SXL a uno dei due Mew e andrei di Mewtwo e la Pippa, perché, raga, la Pippa fa da counter pure alla Madonna. Cioè, se Gesù gli fa il miracolo contro, la Pippa lo countera. Comunque, primo turno siamo contro Rochet. C'è Acromio, è vero, non mi ero dimenticato che ci fosse Acromio. Ovviamente, al torneo di Libeciopolis, se non ricordo male, non c'è nulla di particolare, non ci sono personaggi esagerati, sono tutti preimpostati. Subito sfida con il rivale. Speriamo che li abbiano nomizzati decentemente. Si allena con impegno per cercare i suoi amati Pokémon. Ecco a voi, Rochet! Raga, standing ovation per Rochet, un mi piace per il Rochet. Mi raccomando, rispondete anche alla domanda del giorno. Prima sfida, Rochet contro Creepy, mamma mia, Civil War. Luke, le prendi? Luke, le prendi? Vai, parte la sfida. Con la musichetta classica del rivale. Vediamo un po' cosa riesce a fare il Rochet. Ha tre Pokémon, adesso manda in capo Gesù Cristo. A Zumarill, ok, perfetto. Allora, livello 25, ok, il livello è buono, raga. Mica come il Light Platinum che ce li hanno al 103. Allora, Nutra DS, Ixella. Ixella, bellissimo. Nutra DS, Ascella. Il miglior Pokémon di sempre, raga. VGC 2017. Non gli ho fatto nulla. Ottima cosa. Arancia, Fiamme, Aya. Ok, fermi. Proviamo un Mazzuolegno, così dal nulla. Magari lo shotto. Quasi, ok, fermi. Aromaterapia, ottimo. Aromaterapia non dovrebbe essere un problema. Mazzuolegno dovresti morire. Ole, brutto colpo, perfetto, raga. Questo si chiama culo. Larvesta, giusto che non ottengo neanche i punti esperienza. Provo un Rocciotomba, così dal nulla. Vediamo se riesce ad andare giù. Non gli ho fatto assolutamente nulla. Ottima cosa. Lucidatura. Ok, comincio ad avere paura. Quindi, ragazzi, faccio un comando cura tattico. Lui fa baratto. Se hai uno strumento ti picchio sangue. Statico muta. Non so quanto possa essere buona come cosa, in realtà. Perché, cioè, sì, però lui ha muta. Quindi, boh, frega, ragazzi. Adesso gli faccio un Mazzuolegno e lo spedisco a casa. Direttamente biglietto di sola andata per idrocannone in faccia. Reggilo. Oh, oh, brutto colpo. Cazzo fai, muori. Sì, super efficace a casa Larvesta. 2-0 per Nutra di SXL, che praticamente sta lottando solo lui. È fortissimo. Anorith. Date il benvenuto a una delle due parti di Wimpod. Perché io Wimpod, il Pokémon di Sole e Luna, si intende. La prima volta che lo vedi, dissi, questa è una fusione fra Kabuto e Anorith. E effettivamente, effettivamente si assomigliano tantissimo. Comunque, un altro comando cura tattico per curarci. Adesso che hai imparato questa mossa, Nutra di SXL, Nutra, non riesco a pronunciarlo quest'oggi, mannaggia me. Nutra di SXL. Ora che hai imparato quella mossa lì, è devastante. Cioè, può usare mazzulegno a ripetizione e poi ricaricarsi. Comunque, devastato il Rochet, la vittoria della prima sfida va a Creepy. Devo dire che i tuoi Pokémon sembrano davvero felici quando lottano. Cioè, vuoi mettere a essere allenato dal mitico Creepy Stories? Allora, Comor ha vinto, Acromio ha vinto, dovrebbe aver vinto, se non ricordo male, il Lucchino. No, non è vero, vince l'altra. E vabbè, di qua ovviamente se non sbaglio vince Comor. Ma testa a testa cosa che gli ho aperto il culo, raga? Hashtag, hashtag presentatore non mentire. Dacci dentro! Ok, devo smetterla con certi riferimenti, sta registrando, è tutto a posto. Comor, eccolo qua. Seconda sfida con Comor della serie, come se non l'avessimo già sfidato abbastanza... Grrr, molto chiaro come tifo. No, dicevo, come se non fosse stato abbastanza averlo sfidato nella scorsa serie. Adesso ce lo ribecchiamo qua. Sei stata la prima persona a sfidarmi quando sono diventato capo palestra. Sono davvero felice di poterti affrontare di nuovo oggi. Ora mostrami cosa hai imparato sui Pokémon e quanto è forte il legame che hai stretto con loro in questo viaggio. Cioè, è un legame incredibile perché praticamente i miei Pokémon si evolvono in dei Mew. Cioè, non so se vi spiego che legame ci può essere con un Mew. Ok, basta. Allora, Piplup, veniamo di mandarti a casa con un Rocciotomba. Per ora, Rocciotomba non c'è stata una volta che... Ecco, lo stavo dicendo. Non c'è stata una volta in questa parte che abbia attaccato decentemente e shottato. Combi, perfetto. Comor, finché i Pokémon qua puoi essere anche capo palestra di Buddha, però... Cioè, finché i combi non penso che tu possa vincere. Però ognuno ha i suoi Pokémon prefip a Markrow. Madonna che... La tristezza dell'esistenza, caro mio. Rocciotomba... No, magari fosse stato super efficace tre volte di fila. Magma Clisma, Magma Mille Palle, Mazzuolegno e a casa. Super efficace. Vabbè, quando non è efficace Rocciotomba, è efficace Mazzuolegno. Abbiamo capito. Incredibile, tutti i tuoi Pokémon siete diventati davvero fortissimi. Cioè, anche prima ti aprivamo il culo, ma non c'è problema, sai. La vittoria della seconda sfida va a Creepy, ok. E adesso ci sarà la finale con Acromio. Se sono arrivato fin qui è solo grazie ai miei Pokémon. Perché i Pokémon ci aiutano? Oh, Cristo, ancora con sti discorsi. Raga, e ne se n'è andato. Basta pippe mentali. Allora. Battaglia quindi finale con Acromio, sicuro. E infatti, me l'aspettavo tantissimo. Eccoci qua. Se vince questa sfida, si guadagnerà il suo primo titolo nel Pokémon World Tournament. Ecco voi, Creepy. Vincere! 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 Non mi prendete per fascista, ma sembra che dicano questo. Ascoltate bene. Eh, però magari se non fai scomparire la musica. Vincere, vincere. Eh, vabbè, raga. Il Pokémon World Tournament è fascista. Fascismo nei giochi Pokémon. Titolo clickbait, raga, già a 7000 iscritti. E a 8000 haters. Ma comunque, che poi gli haters sono iscritti, lo sappiamo tutti. Ma comunque, finale con Acromio. Che ha il suo bellissimo tablet, tra l'altro. Litwick. Tra l'altro vedo che non sono randomizzati qua gli allenatori. Cioè, i nomi degli allenatori. Ok, Litwick contro BM. Neutral di SXL, scusami. Mi perdona la mia ignoranza. Ma suo legno è giù. Eh, raga, sto qua con qua. È illegale. È illegale. È illegale. Mamma mia, che potenza questo New 3DS XL. Ma avercelo. Invece no. Io ho un 3DS in Giappone in questo momento. Oh, l'ho mandato quasi a casa. Idropompa fallisce. Acceleratore. Allora, devi morire subito. Eh, se fai schifo, così si aumenta ancora la velocità. Muori. Oh, perfetto. Cioè, sei comunque più veloci. Praticamente questo Pokémon qua aveva mezzo, mezzo punto di velocità. Mazzuolegno e levati dalle balle. Troppo ignorante sto Pokémon. È fortissimo, ma è ignorantissimo. Io lo immagino che prende gli alberi e tira le alberate in testa agli avversari. La vittoria va, ovviamente, ve lo stavate anche chiedendo a... Creepy. Benissimo. E adesso, se non sbaglio, uscendo da qua, dovrebbe esserci tipo il Team Plasma. Da te non mi aspettavo di meno. I tuoi Pokémon sono sicuramente felici, visto che hanno qualcuno che li aiuta a sviluppare al massimo il loro potenziale. Li fa evolvere il Mew. Ottimo. Dai, su, forza. Ah, così? Finito? Esco con calma? Nell'indifferenza generale? Nessuno che mi acclama? Non ci sono cori? Non mi regalate fanarte? Un pl di merda? Che schifo? Madonna, che tristezza. Ok, eccoci qua. Bravo ragazzi. Che era entusiasmante. Sono sicuro che dopo aver visto voi vorranno partecipare tutti quanti. È Uveglia. Ehi voi. Voglio vedere una vera lotta pazza e spericolata. O devo scendere io in campo per dare a tutti gli spettatori una bella svegliata? Ok, questo vuol dire che praticamente, se non sbaglio, prima della Lega dovrebbero esserci tutti i capipalestra di Unima. E dopo la Lega dovrebbero apparire anche i capipalestra di altre regioni, i campioni di altre regioni, Gary, Lance, Camilla, Rocco, Adriano, tutti. Ci sono tutti raga, con calma. Ok, proviamo a uscire. E se non sbaglio adesso dovrebbe esserci il veliero del Team Plasma qua. Però, lasciatevelo dire, siete proprio cambiati. Quando abbiamo lottato ad Alisiapoli eravate dei principianti e ora è proprio vero che si cresce quando si viaggia insieme ai Po. Esatto, Team Plasma, perfetto. Cioè, insieme al Po, no? Quando navigate sul Po, si cresce. Forse è meglio che mi suicido dopo questa. Non c'è alcun bisogno di andare in cerca di guai. Potrebbe avere il Pokémon che sto cercando, il purlone della mia sorellina. No, questo è la Rocher, te l'ho letto male. Vado anch'io. Devo assicurarmi che non gli succeda nulla. Ma tranquilli che adesso arrivo anch'io perché... Non tanto perché me ne freghi qualcosa, tanto perché sennò non vado avanti nel gioco. Non capisco, questo non è coraggio, è imprudenza. Siete così convinti che un allenatore possa riuscire in qualsiasi cosa fintanto che ha con sé i suoi Pokémon. Ma non è così che funziona. Ciò che lega ogni allenatore e i suoi Pokémon sono le Poké Ball. Se gli allenatori si fidassero veramente dei loro Pokémon, che bisogno ci sarebbe delle Poké Ball? Questa è un'osservazione alla quale non avevo mai pensato. E tra l'altro, raga, mi ricordo che tipo in una Chrome si poteva sfidare qua Ash. Cioè non rosso, Ash proprio, quello dell'anime. Però era tipo un gioco accato. Forse Blaze Black? Non vorrei sbagliarmi. O forse era una Chrome normalissima. Comunque... Oh, tu sei l'eliminamosse che non servi più in Pokémon Sol e Luna. È vero, raga? In Pokémon Sol e Luna l'eliminamosse, che fine ha fatto? Ok, no, non mi interessa l'intro forza, sinceramente. È la mossa più inutile che esiste. Poi tanto le mosse delle mosse sono... I tipi delle mosse sono randomizzati, quindi... Spiegami che cosa me ne frega. No, volevo controllare una cosa io, raga. Una cosa... Ma giusto per il puro gusto di rosicare un pochino, no? La pietra foglia. Si poteva ottenere? Acquanello caduto amassi? No, queste qua sono MT. Tu? Guarda Dio! Ah, via, 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 via. Va da retro, Satala. Ok, scendiamo giù. I Pokémon, sì, sono curati perché tanto... Siamo entrati al Pokémon Guard Tournament, lì ce li curavano subito. Ok, questo è il velire del Team Plasma. E non mi ricordo sinceramente se... Moneta o Muleto nel frattempo? Non mi ricordo sinceramente se qua ci fosse uno scontro proprio massiccio col Team Plasma o solo l'affrontare qualche recluta. Comunque entriamo. In sto silenzio. Ma perché se questa nave fa così freddo? Perché c'è il Q-Rank, caro mio. È come se non bastasse. Da fuori sembra una vecchia nave, ma non mi convince per niente. Eccolo qua la recluta. Tch, e che importa? Tanto ti sconfiggeremo comunque. Ah, sti cazzi, siete in pochi oggi, eh? Oh, il Team Plasma! Ma allora questo è il vostro covo! Bello il remix è stupendo. Penso che sia un remix. Na na na, sì, è un remix. Risposta esatta! Ebbene sì, ci hai scoperto! E siamo tantissimi. E dove sarebbero gli altri? Non dirmi che siete tutti qui! Ah ah ah, sì, fai pure lo sbruffone. Poi vedremo se ti rimarrà ancora la voglia di ridere. Team Plasma all'attacco! Ok, li devo prendere tutti a botte, cioè dal primo all'ultimo. E direi di sì. Li devo prendere proprio a schiaffi tutti quanti. Ok, perfetto. Iniziamo la battaglia. E Urkujuda Meganium livello 30, però non male. Allora, trottola. Idropompa. Aia, martellata raga, martellata in sto gioco qua è spammata come la merda. Peggio di canto antico nella scorsa Crazy Lock, che c'era... Praticamente ce l'avevano due Pokémon su uno. Martellata, ancora di nuovo, ancora di nuovo, non si può sentire, ma dettagli. Non critare. Ok, idropompa e giù il primo, perfetto. Trottola dovrebbe salire a livello 33, perché comunque Meganium dovrebbe dare un fottio di punti esperienza. Perfetto. Possiamo proseguire. Colpo coda. Lo schifo dell'esistenza. Vabbè, proseguiamo per piacere. Avanti, avanti, ragazzi, all'attacco. E ora tocca a me, anzi, tocca a Trab. Trab, non penso sia Trabish, ma va bene lo stesso. Sai, ho come questo presentimento, raga. Non sarà un Trabish. Non penso proprio che sia un Trabish, però vabbè, dettagli. Vabbè, Crowdon è comunque spazzatura, ma non è Trabish. Qua la luce, la luce managgia lei. Ok. Allora, no, fermi. Fermi tutti, non hai capito nulla. Allora, io lo ritiro. E mando Cynthia. Devo decidermi un modo per chiamarlo, quindi lo chiamerei Cynthia. Cynthia, dovrebbe essere il modo giusto di pronunciarlo. Geloraggio, di che tipo? Tanto geloraggio è randomizzata. Madonna, non lo imparerò mai, raga. Come questo presentimento. Venterge... Cioè, altro? Non ce l'hai la mossa di Cristo? Per caso, no. Perché tanto a sto punto. Godo come un cane che ha fallito due volte di fila. Probabilmente aveva 25 di precisione. Juke, Crowdon. Perfetto. Otteniamo un po' di punti esperienza. Va bene. Plasma, plasma. Ho capito. Il plasma sta nel sangue. Mannaggia a te. Sei peggio di quell'allenatore imbattibile. Dei soliti riferimenti all'ex ormai personaggio dei giochi, insomma. Di cui non ricordo effettivamente il nome. Forse si chiamava... Black? Molto semplicemente? Qual è l'idea per... Cioè... Chi devo affrontare io? Cioè, io parlo anche con tutti, eh? Cioè, nel senso... Va benissimo per me. Come vai a dare una mano a Komor? Ah! Eh, ti do una mano. Ok, perfetto. Ah, ok. Devo parlare a Komor. Ottimo. Battaglia in doppio. Queste sono ostiche. Queste sono davvero, davvero pericolose nelle Nuzlocke. Allora, vediamo chi mandano. Beedrill. E Gotorita. Ok. La coppia non sembra essere irresistibile. Komor, Magnezon. E io Stamfisk. Stamfisk. Direi che il Pokémon peggiore qua ce l'ho io. Però, cazzo, Komor ce li ha il 33, raga, eh? Buon livello. Attacchiamo Beedrill, direi. Cazzo, ho evitato l'attacco. Magnezon usa Morso. E quasi lo shotta. Idropompa... Cazza, rola. Occio. No, ok. Madonna, sinti eroe. Acceleratore di Gotorita, ma adesso lo shotto. Non c'è problema. Botta su Gotorita e ti mando subito a casa che stai cominciando a diventare rischioso. Via, Ole. Perfetto. Non mi è praticamente dato punti esperienza. Questo Beedrill qua ho paura di cosa potrebbe fare. Calcio in volo su Magnezon. Ok, però regge bene. Carnivine. Ok, classico Pokémon. Se non sbaglio c'è, aveva il Team Plasma questo. Eh, no, scusatemi. Team Galassia. No, non fallire, brutto scemo. Ok, nel frattempo Be... Come cazzo ho fatto a reggere? Vabbè che le statistiche randomizzate tutto, però... Cioè, era una fottuta ricciolata, efficace per duemila. No! Oh! Cazzo è sta cosa? Beedrill spacca tutto. Allora, curiamoci Cynthia. Vai. Allora. Occio adesso. Ricciolata. No, non dovevi fallire. Non dovevi fallire. Questo adesso mi fa un altro vital tiro di merda. No, peggio, sberle tese. No, no, peggio no. Questo è un critical di merda, ovviamente, perché non sia mai che non mi facciano i critical. Allora, no, quel Beedrill li sta diventando troppo pericoloso. Quindi, botta e vai giù. Ok, e il colpo di grazia te lo do. Adesso quel Carnival lì potrebbe fare un altro fiammappato su Magneton, volendo. Però Magneton va diretto di ricciolata. Non lo butta giù. E lui fa... Lui fa cinesi perché è gay. Perfetto. No, me lo stanno usando contro, raga. Come faccio? Ho perso. Raga, dobbiamo concentrare tutte le nostre energie su John Frog. Perché... Dio resiste. Carnival infiammappato, mi sa che Magneton va giù. No, no, invece... Metal testata, Cynthia evita l'attacco. Ottimo. No, ok. Mi preoccupa tantissimo. A parte gli scherzi, mi preoccupa tantissimo Polivrat. Sì! Ho preso l'efficacia. Però non gli ho fatto nulla, mannaggia a te. Morso. Tanto, raga, ho notato che quel Carnival praticamente fa solo cinesi. E si attacca e attacca Magneton. Quindi, a me... Non rappres... Cioè, per me non rappresenta nessunissimo problema. Per Magneton, invece, abbiamo un po' più di problemi di natura logistica. Ora. Provo un altro caduto a massi su Polivrat. Se sono fortunato che faccio quattro colpi... Un critical! Uh! Uh! Quello era un critical, era un max damage, raga, eh. Perché, cioè, ha tolto una roba impressionante. Adesso, chissà se Magneton non va giù. Eh, ma se fa ricciolata va giù sicuro. E car... Questo si chiama culo! Oh! Sì! Che cosa bella che ho visto! Ok, perfetto. Battuti, devastati, aperti, ribaltati, appesi al macello. Questi qua non finiscono più. Ok, fermi però, fatemi curare. Tra l'altro, pensavo fossero di meno, effettivamente. Allora, curiamoci Cynthia e curiamoci anche Trottola. Mettiamo davanti, direi, Nutra DSC... No, ma dai, non ha combattuto per tutto il World Tour, no? Metterei davanti Adamo Buono. E poi cosa faccio? Inizio a parlare a sta gente? No, forse hai bisogno tu di aiuto. Sì, sì, sì. Dai, dobbiamo aiutare lui. E forse qua, raga, scopriamo qualcosa sul Purl One della sorellina del tipo. Oddio, Duebole Marip. Cioè, non ho ancora visto un leggendario o barra Pokémon decente. Vai, a parte John Frog, che è proprio di un'altra dimensione. Ma questi sono dettagli. Adamo Buono. Culture 1 su Duebole. Evita l'attacco, perfetto. Perché tanto non poteva andare bene la mia vita. No, doveva fare schifo. Aia quanto gli fa male. Fa malissimo. Lancia fiamme, Duebole va giù. Vedete, raga, perché vi dico che le battaglie sono... Pericolosissime. Perché loro, ma anche il rivale che sta con me, Sanno per qualche motivo oscuro, intanto ritorna ancora Caracosta, Sanno per qualche motivo oscuro il tipo dei miei Pokémon. Nel senso che, evidentemente, sono... Guardalo. Sono programmati per attaccare secondo il tipo, non secondo il Pokémon effettivo che si trovano davanti. E quindi loro lo sanno, intanto Marip, minchia, è morto dieci volte. E PS mi ha fatto malissimo quella ripicca. Quindi, adesso, io mi sento di switchare con Adamo Buono, perché... Mi ha tolto più di metà vita, e se mi fa un critical mi butta giù. E manderei la pippa che regge. E che comunque non ha un buon attacco, considerando che ripicca, fa danni, se non ricordo male, In base al mio attacco fisico, dovrebbe essere una mossa azzeccata. Azzeccatissimo, oserei dire. Sprizzalampo su chi? Ok, finché attacchi lui va benissimo. Tra l'altro non gli hai fatto nulla. Lui fa aromaterapia, ma perché devi fare una cagata del genere? Allora, calma. Comando urto su Walrein. Lui fa ripicca, continua ad attaccare me, eh? Sprizzalampo, vediamo se stavolta va su di me. Stavolta va su di me, e come? Ok, statico e godo, questo è il karma. Hai utilizzato una mossa di elettro e sei rimasto paralizzato, te lo meriti? No, non fallire però la pippa. Ah no, non ha fallito, lol. Ho visto male io? Allora, calma. Carracosta devi andare giù. No, incanto le palle. Dai, zio dai, che due coglioni. Muori. E regge. Sprizzalampo. Allora, fermi. No, 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 no. Un altro comando urto su Carracosta ci sta e come. Ripicca. Allora, sperando che quel Walrein non critti. Altrimenti giuro che bestemmio la madonna. Comando urto, sprizzalampo. Forse attacca anche lui. No, attacca a me. Ok, non mi ha fatto nulla. Me la rischio. Drago furia. Lui fa lancia fiamme. Vediamo se lo butta giù. Gli ha fatto nulla. Drago furia. Vai giù. Non gli ho fatto un cazzo. Però Tentenne non può agire. Godo. Godo. Comando urto. Dai. Dai che devo anche andare a studiare storia. Via. Muori. Sì. Perfetto. Ok. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Olè. Perfetto. La fregata plasma. Sì, siete proprio una fregatura perché fate schifo. Siete scarsissimi. Ehi. Non è possibile. Accidenti. Che facciamo? Vi levate dal cazzo. Mi fate scendere. Abbiamo fatto piazza pulita. Ora vediamo di scoprire qualcosa su Purloan. Ok. Anch'io ho delle immagini. Anch'io ho delle indagini da svolgere. È un saggio questo. Ma che succede? Sì. È uno di quei saggi. Violante forse si chiamava. Guarda un po'. Tu sei quel vecchio che stava per finire congelato nel deposito frigo. E ti chiami Violante vero? Forza parla. Cosa intendete fare con questa nave? Ah, sei tu. Quel ragazzino pestifero. Che intendiamo fare? Nulla di nuovo. Stiamo cercando un'altra volta di assoggettare un Pokémon Drago leggendario per dominare Unima. E non lasceremo mai che dei ficcanaso come voi lo impediscano. Trio scuro. Portateli via. Ti avverto. Noi non siamo i tuoi. Lo so, lo so. Ma per ora dovete portarli subito via. Avete sentito? Ok. E ci prendono a calci. Ci sbattono fuori dalla nave. Il trio scuro. E chi sarebbero? Ah, che rabbia. Dove è sparito adesso il Team Plasma? Ok, abbiamo capito raga che Rochett praticamente lui è ossessionato dal Team Plasma. Luke, non mi avevi mai detto di questo tuo fetish. Allora, signori miei. L'episodio penso che possa finire qua. Tecnicamente ci sarebbe il sentiero nascosto da esplorare. Però, dato che non ci possiamo fare una cattura. Me lo tengo in futuro per allenare alcuni Pokémon, direi. Tanto non dovrebbe esserci nulla di particolare. Se no, magari qualche strumento. Ma tanto vi aggiorno se trovo qualche strumento figo. E nulla. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale. Se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social che saranno in descrizione. E rispondete, come al solito, alla domanda del giorno che sarà qua sotto, nella sidebar. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.